Ciao grandissimi e ben ritrovati! Prima di iniziare vi invito sul server Discord Play2earn Italia dove parliamo di vari giochi, chiaramente tutti quelli che vengono presentati ed anche altri. Il server è nato da pochissimo, ci stiamo ingrandendo piano piano, quindi sei invitato se sei un appassionato di giochi crypto. Detto questo, Tetan Arena, vale ancora la pena giocarci? Vale la pena investirci? Quanto si guadagna? Lo andiamo subito a vedere. Tetan Arena è stato uno dei giochi più promettenti nella fine del 2021, ma che cosa è successo? Beh, diciamo che purtroppo, come in tantissimi altri progetti, il rischio c'è sempre. Infatti, diciamo che Tetan Arena non è andato così come si sperava. È vero che all'inizio chi ha acquistato gli NFT per giocare gli eroi, molto probabilmente in meno di un mese è riuscito a rientrare nella spesa. Quindi io mi auguro, insomma, che meno persone possibili abbiano perso soldi. Però il problema è stato principalmente questo, ce lo andiamo a vedere. Qui stiamo parlando del THC, che è il token interno al gioco. Quello che è successo è che inizialmente il prezzo si era assestato sui 70 centesimi, dopodiché, boom, è sceso tantissimo. Questo perché? Perché il token non aveva un vero e proprio sistema di barn. Cosa che è stata inserita adesso, ma a mio parere, sarebbe dovuta essere stata inserita inizialmente nel gioco, in modo che così il token interno proprio del gioco sarebbe stato barnato, bruciato, e quindi avrebbe comunque mantenuto un valore alto. Tant'è che, se andiamo a vedere nel market, è possibile acquistare gli eroi con i THC, cosa che prima non era possibile, prima si poteva fare solo tramite Wrapped BNB e BNB. Il costo degli eroi è sceso tantissimo, ragazzi, tantissimo, di 10 volte. Chi aveva gli eroi quasi sicuramente l'avrà utilizzati, quindi diciamo che rivenderli poi era un'opzione, insomma un po' obsoleta, fatemelo dire, però il prezzo è veramente impressionante quanto si sia abbassato. Prima diciamo che un floor price di 150 era nella norma. Quindi, vale la pena entrare? Andiamo a vedere anche THG. THG, che è il token di governance invece, esterno al gioco, ovvero quello che si poteva mettere anche in seking, anche qui ha fatto un botto enorme. Il THG serviva principalmente per fare degli upgrade, oppure per degli acquisti e via dicendo. Ma dai 20 dollari di prezzo massimo è sceso fino a un dollaro, e oggi stiamo bene o male un dollaro e tre, un dollaro e due. Come THC, come potete vedere, il grafico bene o male è lo stesso, no? Immaginate che prima stava a 70 centesimi di media, massimale quasi un dollaro, e adesso siamo a un centesimo, un centesimo e mezzo. Quindi un capitombolo enorme. Il problema principale del gioco è anche quello del bilanciamento. Appunto, il gioco è molto sbilanciato e inoltre c'è il grandissimo problema dei bot. Perché è un grandissimo problema? Perché in giochi 1v1, se incontri un bot, diciamo che te ne può fregare, o magari non te ne frega niente, anzi sei pure contento perché è più facile vincerci. Il problema è che questo gioco richiede anche in alcune arene il team play. Quindi giocare contro magari un team formato e tu in team ti ritrovi dei bot, chiaramente non puoi fare niente. Le rewards dei premi, se non si arriva primi, o massimo secondi, ma direi primi, non è niente di che, quindi non è assolutamente worth, e quindi capiamo bene che il gioco è caduto proprio in disgrazia. Se andiamo a vedere la roadmap, infatti diciamo c'è stato l'alpha test, il beta test nel primo quarto, con lancio ufficiale, eventi speciali, la possibilità di mettere in renting i propri eroi, però tutti gli step successivi, effettivamente per una buona economia macro e micro all'interno del gioco, sarebbero dovuti essere inseriti perlomeno nel Q4, perché qui le gilde, il pet system, le quest di gilda e via dicendo, sono tutte opzioni, anche lo staking, sono tutte opzioni che probabilmente dovranno essere messe prima. A mio parere l'errore più grave da parte del team di sviluppo è stato quello di non dare la possibilità di acquistare gli eroi con i token interni al gioco, perché è chiaro che serve un burn system, un gioco dove si spendeva tanto per entrare, perché un conto è un gioco dove magari in alfa puoi iniziare a giocare gratuitamente, cosa che si poteva fare, però i guadagni praticamente erano irrisori. Un conto è che io entro con 20 dollari, quindi se ci sono tutti questi problemi non me ne frega niente, ho messo 20 dollari, però io stesso stavo valutando la possibilità di acquistare un eroe a più di 1000 euro. Se spendo così tanto, io mi aspetto qualcosa di più, mi aspetto di guadagnare. Cosa che non è più successa per questi vari problemi. Cioè, andiamo a vedere anche i tornei e il battle pass addirittura si parla di fine 2022. Troppo tardi, troppo tardi, il team sta cercando di recuperare, ma probabilmente non riusciranno più a recuperare il fallimento che c'è stato dietro al lancio di questo gioco. A me è una cosa che dispiace tanto, uno perché ci avevo fatto un video, due perché inizialmente i guadagni erano effettivamente molto alti, e il tipo di gioco comunque, come è stato sviluppato, è molto valido. Il problema è che nel Play to Earn non basta fare un gioco valido dove ti diverti, dove giochi e ti diverti, ma devi avere anche un guadagno perché c'è un investimento dietro. Potrebbe riuscire a recuperare qualcosa, non credo che torneremo ai prezzi di prima, però è pur vero che adesso per entrare nel progetto con degli eroi nuovi di zecca bisogna investire molto 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 di meno. Io vi faccio rivedere la schermata, qui stiamo parlando di 12-13 dollari. Se nel corso del tempo riusciranno a recuperare miracolosamente, magari pensare di entrare oggi con due personaggi potrebbe essere un'idea non folle, però sinceramente per come sono andate le cose sono un po' titubbante e i numeri parlano chiaro, non sono l'unico visto il risultato insomma dei vari grafici. Vi rinvito un'altra volta sul Discord dove possiamo parlare sia di Tetan ma di tutti gli altri progetti. Con questo Discord stiamo creando anche una gilda con cui presentarci nei vari giochi e nei vari progetti per avere dei giveaway, per avere whitelist spots e via dicendo. Quindi mi raccomando, ci tengo, becchiamoci là, anche perché se vuoi parlare con me diciamo il mezzo più semplice è questo qui. Ti do appuntamento al prossimo video, buona giornata!